Le telecamere entrate in funzione permettono di tenere sotto controllo gli ingressi e punti più strategici di Sernia. L'obiettivo non è quello di fare le multe, almeno per ora, ma quello di aiutare le forze dell'ordine a garantire la sicurezza dei cittadini. Sono utili, come dimostrano recenti episodi di Cronaca Nera. La videosorveglianza, grazie alle luci infrarosse, funzionerà anche di notte. Un centro di controllo per quanto riguarda il centro urbano, sia sotto l'aspetto del controllo del territorio per eventuali violazioni ed illeciti, e sia anche per un controllo effettivamente della viabilità del traffico ed anche ai fini del codice della strada. Le prime sperimentazioni sono state effettuate in occasione della visita del Papa. Ora il sistema diventa pienamente operativo e sarà utile, ha detto il sindaco Brasiello, anche per effettuare verifiche sull'andamento della raccolta differenziata. Per ora si parte con poco più di 20 telecamere. Sono 22 telecamere che sono state poste agli ingressi della città di Sernia e in altri posti che saranno resi pubblici, e sono già pubblici in altri posti, sono 22 telecamere le postazioni, più in attesa di altre sei che provengono dalla ZTL e dal controllo dell'edificio dell'auditorium. L'obiettivo futuro è quello di allargare la rete delle telecamere. Si punta a piazzarne una cinquantina. Insomma, il grande fratello profetizzato da George Orwell è sempre più realtà, ma i cittadini possono stare tranquilli. La privacy è garantita. I dati sono tutelati al massimo, forse anche qualcosina in più di quello che prevede la norma sulla garanzia della privacy. Tanto è vero che non c'è assolutamente alcuna possibilità di rilevare l'identità delle persone e non c'è nessuna possibilità di poter andare ad inserire in un qualsiasi tipo di sistema che abbiamo notizie o dati letteralmente privati e sensibili.